il cap si sta vigilando alla zona sicura goto che si fa? non so scriviti il cap si insomma no sei zio, non scriviti nè, tu sei pericolosissimo oh raga qua è il solito mi chiediamo lontanissimi bad leonida non mi è nuovo è quello di 300 il tempo che arriviamo gli altri hanno preso le armi l'equipaggiamento hanno fatto tipo 25 kill si ma non siamo gli unici guarda per destra sono involati come noi si secondo me quello spottino è famoso per qualcuno per chi è abitato a fare tornei eh quelli praticamente fanno lo stesso sort di prima secondo me accanto a noi quelli di estra giusto questi? si questi iniziano per i cazzi loro, questi qua di estra in proprio poi arriviamo fanno la stessa start di poco qua io li vado marcando ragazzi perché ho paura che poi non li vedo più quando diventano piccoli io sto... no, non prendo niente, non prendo niente iniziamo a scendere io vado sempre alla pozza di prima, Gianluca tu da quella sinistra, io da quella di destra io vado l'ultima qua vado quella qua davanti subito giallo io qua sotto qui prendo già acqua, ok prendo anche l'altro e il ponte di cerro ma dov'è? ma non è qua dove sono io no, quella tua qua è sono io, sono io al ponticello ah no, lì, ah ok, è là al blu, al blu quella di mare e vedo questa di pompa l'ho preso quello per terra, si può usare no, evitalo, evitalo non rischiamo comunque in teoria si può usare però evitalo tanto fa schifo quello per terra non c'è un portatile, no, vero? no, io il carino vicino ho tornato eh, ma non vorrei che c'è qualità sono scesi perché sono spariti i soldi, li hanno presi loro, occhio eh la cassa dei soldi qui sono pericolosi fai che ha aperto qui? che ha aperto qua? vuoi? io no ok raga, andiamo, cosa? hai aperto lì dove c'è lui? no no, no, no ah, ci sente ok, ci sente allora ah, non c'è aperto qua qualcuno poi andiamo qui raga siamo destra su destra ci diamo là vabbè, voi ho fatto solo qua come prima? eh, sì, dai, è il momento vabbè, vabbè, vabbè cioè, speriamo io bombardamento poi, eh io bombardamento e un grappolo perfetto lo avvi non c'è però, no Gianluca, ne vuoi uno tu? sì, sì, dammi qualcosa ci voleva il pallone questa è aperta andiamo raga con la fune, con la fune no, 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 raga no, 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 no non ci possiamo andare non ci possiamo andare ho fatto l'oddy cazzo raga, l'unico problema è qua minchia, ciò, sta buttando lì minchia, è un figlio di butta lo prendiamo no, 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 no eh, ce la possiamo fare ce la possiamo fare, raga eh, fai conto che quello accanto due e lo tasto sono caduti, eh quello accanto è quello loro minchia, ripeto no, arriva la marca mia ma aiutami, ritorna, ritorna, ritorna perché siete venuti pure voi? bombarde, bombarde, se vuoi però ce la facciamo, andiamo no, no, sono lì, sono lì li ho visti, al ponte stanno andando oh, qua, qua, qua occhio minchia, ci ha visto forse raga, nel dubbio vi tiro alla cassa qua traccato uno dove è l'altro che spada, c'è? vado a vado, vado a vado a vado, ci ha avuto qua si ha capito, ce la cadiamo in di qua si, 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 se l'ha capito che dato armi di merda avete la maschera o ve la do? io ce l'ho, ce l'ho eh, sono di tutto uno? o chi che deve prenderlo da? tieni, andile, andile, andile compro la figlia subito, lo tiro al volo, eh c'è un'altra maschera c'è 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 una staglia, una staglia, raga ha bombardato dove sono raga? la casetta c'è Kino, c'è Kino in montagna dove dove dove? ma si cazzo sono no, l'ha fatto, porco dio andrà, sono due team, sono due team andrà, andrà poi l'ha messo la mina, vada eh, segnala, segnala non poteva se ci uccidono con la mina se fate la screenshot raga, senza armi siamo fottuti eh, l'ho capito andiamo a prendere il pallone ci andiamo col pallone raga dai ci sta, ci sta andiamo in teoria in quella parte non ci debba essere nessuno siamo lontani, siamo lontani dai, in teoria non ci possono uno, 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 uno shottare si niente, niente te li lascio io qua dentro seguimi, seguimi Gianluca, lascio pure a te veloce, veloce, veloce vai, lo dà subito, eh via minchia, porca troia l'hanno fatto espottere il costo hanno rifatto un lancio sempre lì finché ti va bene hanno fatto espottere il pallone raga, sono morto eh, gg, 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 gg dove sono? non li vedo? nemmeno io dobbiamo toglierci dal pallone faccio cerchermi apposta, ti so comprendo ma non li vedo, stai comprendo allora eh, sì, quello adesso vuole mirarlo andate, se ci pushano la dito siamo nella merda eh, lo so c'è la fatta fra un po' di fuoco copertura con questi mi prenderò d'auto eh, proviamoci andre, andiamo stiamo pure senza piazza sei ancora lontano dimmi quando sei pronto appartiniamo il fumogeno questi qua dietro ci sentiamo subito quindi dici quando sei pronto no, si sta sparando non lo tirare infatti non lo tiriamo però non lo tiriamo hai coppi di cecchino e salto si, togli i ping dal carrello Andrea, togli i ping dal carrello i compagni sono nella zona sicura togli i ping ok, bravo via, bravo passiamo in miglia, è bello muoce in tutta la vita ok guarda piastre per però c'è pallone Gianluca, Gianluca, vieni qua che merda non importa l'importante che siamo vivi posso usare questo? se i soldi banno no, non si può usare no, 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 no oh, c'è chino ci tirano da gru dov'è la gru, raga? non l'ho visto che poi c'è una raga cazzo no, c'è qua non vedo da dietro, da dietro, da dietro, da dietro fuori dalla casettina lì andrà posso salire giallù? che è sopra? sono sul tetto sceso non è nello stesso angolino l'ho visto l'ho visto qua qua si vedono i piedi ogni tanto qua c'è un kit cura lo prendo? se hai fatto il culo qui si no non l'ho fatto non posso prenderlo se non l'ho fatto ah vabbè te lo conservi se ti faccio te lo conservi vedo l'ombra si è ancora qua occhio che forse si è aperto lì il tetto Andrea occhio occhio qua sotto forse è aperto vedo ombre minchia ce l'abbiamo sopra semmeno si ho visto visto e poi siamo da merda ecco mettete nel mirino di una squadra nemica guarda lì guarda lì guarda lì guarda lì si si minchia poi non li cecchia nessuno se mi ci mettevo io la stava già ero morto 10 volte infatti ciao guarda lì minchia che brutto si stiamo fottendo la partita stando qua cazzo ma io com'è che ho zero di danno questo stronzo qua li avevo sparato io cazzo 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 i team che arrivano non sanno che noi siamo qua sanno che c'hanno quelli di sopra dai guarda dov'è dai che forse si butta contro la finestra Ah ma da qua siamo in pianura Cazzo ho sbagliato mi sembra che stava sbossando E' craccato comunque Oh mi sparano se avessi il muro Tutte le corazze ho perso Sono qui raga Cazzo ho sbagliato Cazzo ho sbagliato Cazzo ho sbagliato Cazzo ho sbagliato Sto vedendo se esce Non capisco di corazze raga E' qui dietro qui dietro No v'hanno fatto Sono entrati Dove v'hanno fatto raga Qua qua sono dentro sta uscendo C'è la mina c'è la mina Oh la mina raga Ha craccato uno Oh la mina non possono eh Se ti uccidono con la mina segnalo Dove c'è la macchina andrea Craccato uno Non morire qui Non morire qui Gara Fatto Oh su ponte su ponte Minchia Dove la tossica per forzare col monte Ma va 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 Eh non so fare il decimo post 3-6 kg Vabbè dai 8 adesso 6 Fanci Quasi 9 kg Ma chi sono questi? Ti hanno fatto perdere un casino di tempo Sui coglioni qua Si fu Si fu